Vieni qua, tutto bene? Sì, no, sto bene. Vieni, vieni. Forza, eh? Sì. Ci tieni, no, questa cosa? Appunto. Mi raccomando. Vabbè. Ecco, sta piangendo. Perché stai piangendo adesso? Perché sei preoccupata? Vabbè, ma la preoccupazione è normale, fa parte del nostro lavoro. Anche sempre prima di una prima importante siamo preoccupati sempre, il nostro lavoro fa parte di questo. No, lo so, vabbè, non volevo nemmeno piangere perché è due giorni che sono qua, non è giusto, però... Cioè, sono piena anche di dolori, ho le vesciche tutte aperte e non riesco a fare le cose bene anche in sala. Ah, eh, ma dillo però!